Perle a pua che è molto molto primaverile e estivo, cioè il lilla quindi andrò a creare delle perle lilla con i pua bianchi ovviamente voi potete utilizzare i colori che preferite partiamo con una sfoglia di pasta lilla appunto spessa circa un millimetro e mezzo adesso prendiamo un foglio a quadretti di quelli normali, questi sono i quadretti da mezzo centimetro e lo andiamo ad applicare sulla sfoglia facciamo aderire bene il foglio in modo tale che non si sposti e adesso con la penna vado semplicemente a tracciare i puntini ogni due quadratini e la seconda riga la vado a fare spalzata rispetto alla precedente ok, una volta tracciati tutti quanti i puntini andiamo a rimuovere la carta come vedete sono rimasti tutti quanti i segnetti dei puntini che abbiamo fatto e proprio in quei punti andremo ad applicare i nostri pua bianchi con estrema precisione prendiamo quindi la clay gun e andiamo a creare un tubicino di pasta bianca sottilissimo andiamo quindi a tagliare tanti pezzettini di pasta cerchiamo il più possibile di farli della stessa dimensione con l'aiuto di un bulino li andiamo ad applicare proprio dove sono i solchi per applicare il pua in maniera più precisa lo andiamo a prendere con il bulino lo andiamo a posizionare sul punto che abbiamo scelto lo schiacciamo leggermente e con un bulino più grande lo andiamo a schiacciare così il contorno viene meglio definito ok una volta applicati tutti i pua con un mattarello andiamo a schiacciare in tutte le direzioni e adesso andiamo a rivestire le nostre perle prendiamo una pallina di pasta la vado leggermente a schiacciare e vado a rivestirla con il nostro motivo a pua tiriamo la parte superiore e inferiore poi la vado ad arrotolare e poi andiamo a bucare e questo è il risultato ovviamente andremo a fare le altre le andremo a cuocere per 20 minuti a 130 gradi spero che il video vi sia piaciuto e ci sentiamo al prossimo video ciao